È in rianimazione all'ospedale di Vicenza un ragazzo di 16 anni di Sarcedo, falciato lunedì sera lungo via Ortigara. Il giovane stava spingendo a mano il suo scooter sul lato destro della strada. Poco prima del ponte sull'astico, così come riferito da un amico che lo seguiva a piedi, è stato urtato da dietro da un automezzo e sbalzato nella scarpata sottostante. Immediati i soccorsi che hanno riscontrato subito un trauma cranico. Il conducente del veicolo non si è fermato e sono in corso accertamenti su varchi e impianti di videosorveglianza pubblici e privati. Alcuni testimoni hanno anche descritto il suo veicolo alla Polizia Locale Consorzio Nord-Est Vicentino. Proprio dal comando dei vigili parte l'appello all'investitore a costituirsi entro 24 ore dal sinistro. Solo in questo caso è previsto uno sconto della pena. Altrimenti, l'ipotesi dei reati di fuga e di omissione di soccorso prevedono il carcere da sei mesi a tre anni, con ritiro della patente da uno a tre anni per chi non si ferma in caso di incidente e da uno a tre anni di carcere e la sospensione della patente da un anno e mezzo a cinque anni per chi non rispetta l'obbligo di assistere una persona ferita, così come previsto dal codice della strada.